vai 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 così davanti prima voglio vedere i piedi voglio farti vedere i piedi eccolo qua bellissimo questo come se hai volato via sì sì e 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 bello con lo schermetto così è facile è facile con lo schermetto così bravo carino eh? si è facilissimo e 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